Saluto all'autunno. Tieni la schiena bella dritta, mani in preghiera, piedi a martello, respira profondamente. Inspirando porta le mani verso il cielo, aprile. Allunga la schiena verso l'alto. Porta poi le mani in preghiera e lentamente scendi, unisci anche i piedi, apri le gambe e scendi verso i tuoi piedi, respirando profondamente. Respira in questa posizione e poi risali, porta i piedi a terra e lentamente srotola la schiena, le mani dietro di te, i piedi verso l'alto, posizione del bambino. Afferra i tuoi piedi, respira profondamente in questa posizione e lentamente i piedi vanno a terra, le mani dietro di te e sali in posizione di ponte. Le ginocchia si spingono in direzione opposta alle mani. Contrai l'addome, contrai i glutei, le mani vanno sotto i glutei, incrocia le dita, respira profondamente. Lascia le mani, scendi con la schiena, riafferra i piedi in posizione del bambino. Respira e torna su, unisci i piedi e scendi ancora. E piano sali, allunga le gambe, raddrizza la schiena, mani in preghiera, torna verso l'alto, apri le mani verso il cielo. Senti dai tuoi glutei delle radici che vanno verso la terra e le mani che si connettono al cielo e poi scendi di nuovo con le mani in preghiera davanti al cuore e ripeti questo ciclo per almeno altre tre volte. Buona pratica Namaste